buonasera amici oggi vediamo come fare per dissociare un dispositivo apple dal nostro id di itunes un dispositivo da dissociare quando ad esempio abbiamo un telefono un iphone che abbiamo venduto un ipad o un mac che abbiamo venduto e vogliamo dissociarlo dal nostro id di itunes vediamo come fare apriamo safari andiamo su questa pagina ok come vedete qui abbiamo una pagina dove ci sono i dispositivi che abbiamo ancora associato al nostro id apple ad esempio vediamo che qui c'è un dispositivo ad esempio un iphone 4s che io non ho più ho già venduto da oltre due anni quindi come fare clicchiamo qui ok vedete rimuovi prodotto clicchiamo su rimuovi prodotto confermi di voler rimuovere questo prodotto rimuovi prodotto il prodotto è stato rimosso correttamente come vedete ora abbiamo soltanto i prodotti che abbiamo correntemente in uso quindi non ho più prodotti che sono magari mesi o anni che non non ho più ma ho venduto ad altre persone ok vi ringrazio per la visione di questo video spero che possa essere utile a qualcuno ciao e alla prossima